bello a tutti ragazzi sono magic.ly e oggi faremo un gioco di magia siamo in compagnia di mio amico joanna che farà da cameraman e da spettatore saluta ciao in questo gioco useremo un mazzo virtuoso la qualità è ottima il design è bellissimo lo consiglio molto per chi fa tardi john dimmi sto qua dove vuoi? qua, sicuro? si andiamo così e rispetto a noi lo tagliate a muscolare lo sapete che esistono vari tipi di spuggi? mi scuglio di colori all'americana mi scuglio alla francese mi scuglio all'indiana e mi scuglio alla carriota così io immazzo un po' di cana faccia in su con un po' di cana faccia in su quindi da creare un cana strutturale immazzo quindi dobbiamo cantare due volte di dorso contro faccia faccia contro dorso faccia contro dorso dorso contro dorso faccia contro dorso dorso contro faccia e dorso contro dorso però lo sapete che i maghi hanno dei super poteri se vogliono questo giusto qua hai visto la cosa john? no tutto il mazzo è a faccia in su tra le una sola carta crede proprio sei un po' di spero che il video vi sia piaciuto se si fatemi sapere con un like, con un commento passate alla nuova pagina facebook magic.me iscrivetevi al mio canale magic.me ci vediamo nel prossimo video ciao ciao